e poi chiariremo, adesso vado a casa le magliette per fortuna non ce le ho io l'hanno visto tutti insomma il giudice ha capito un po' il tutto sono ovviamente un po' scosso perché non sono abituato e non sono abituato a queste cose qua a chi le ha rubate queste magliette? la signora di 53 anni che era con te non si può dire però non sono stato io questa è la cosa più importante sono felice di poterlo dire anche perché stavano chiacchierando un po' tutti la signora è che è una tua amica poi ci sentiamo dai poi magari ne approfitterò per chiarire bene sui social perché magari sono molto anche sui social non lo so sono un po' scorso scusatemi